ciao a tutti oggi qui a casa dai dopo ci ho messo un bel po' a convincermi a registrare questo video e decidere un po' come farlo ho deciso di farlo qui a casa perché ho pensato di farlo in giardino in bici cose così però voglio essere il più comodo possibile per mostrarvi alcune cose e per spiegarvi bene cosa è successo esattamente ci ho messo un bel po' anche a pensare a quello quello che avrei detto perché non è così facile non sono abituato a parlare così direttamente solo una telecamera perché di solito si lo faccio ma sono in montagna sto facendo altro quindi il discorso viene fuori così un po' come viene invece qui vorrei rendere il tutto un po' più chiaro e costante possibile dai vediamo comunque allora io ho pensato di iniziare a raccontarvi cosa è successo esattamente dov'ero e come mai non avete più visto video e come mai per un bel po' non ne vedrete più in montagna almeno non sugli sci e non a piedi in bici probabilmente sì adesso sto cercando di capire come gestire un video in bicicletta perché non li ho mai fatti ho fatto già un test ma non è venuto molto bene perché ci sentiva tutto il rumore di fondo del vento e delle vibrazioni della bici che davano veramente fastidio a livello di audio quindi ho deciso di non pubblicarlo perché è praticamente inascoltabile se avete qualche consiglio se fate video in bici scrivetemelo qua sotto nei commenti che me li leggo tutti e quindi proveremo dai a fare così perché ho deciso o meglio ho deciso sto pensando di portarvi con me in questi mesi di riabilitazione che mi aspettano un po' l'ho già fatta un po' devo ancora farla è grosso e post operazione dovrò farne molta ma molta di più quindi bando alle ciance iniziamo con la spiegazione cosa è successo intanto dov'ero? ero fascia alpinismo sul popera non so se conoscete sopra padola ero a scendere il canalone omicida lo Schuster Moser mi pare si chiami comunque sì bel nome invitante abbiamo deciso di andare lì proprio perché ci sembrava una bellissima idea non lo è stata no o meglio l'idea c'era io ho sbagliato ho fatto un errore e non è finita tanto bene quindi non è mai colpa della montagna è sempre colpa nostra che sbagliamo qualcosa questa è la prima regola vabbè adesso vi spiego cosa ho sbagliato quindi salita tutto bene siamo arrivati in cima c'era una cornice bella consistente l'abbiamo aggirata magari adesso vedo qui se mettervi un po' di immagini di sottofondo così seguite anche quelle non vedete solo me che parlo qua in camera la discesa è iniziata un po' così perché l'ingresso nel canale non è stato facile perché c'era la cornice abbiamo dovuto girarci intorno però hanno passate due persone davanti a noi quindi c'era un po' di spazio siamo riusciti a entrare senza rischiare di muovere la cornice e poi siamo partiti a scendere quindi prime 3-4 curve tutto bene poi passato il primo pezzetto c'era un collegamento tra un canalino iniziale adesso magari vi faccio comparire anche l'immagine comunque c'era un canalino stretto ripido all'inizio poi si apriva un attimo e dopo sotto ripartiva il canale io ho sceso il canalino ero io il primo che scendeva nel gruppo e in uscita dal canalino sono successe un po' di cose uno quando sono uscito la neve è cambiata devo aver preso un blocco di neve ghiacciata sinceramente non ho ben capito perché è stato tutto un susseguirsi di eventi talmente caotici che non ho ben capito cosa sia successo esattamente ma poi ragionandoci su e provando a pensare credo di aver ricostruito in più mi ha dato una mano lo sci perché porta i segni della caduta anche lui comunque ho preso un blocco di neve ghiacciata che mi ha un po' sbilanciato a quel punto poco dopo devo aver colpito un sasso o meglio quello l'ho colpito di sicuro adesso vi faccio vedere perché ma prima ho colpito un sasso che mi ha bloccato la gamba destra praticamente perché lo sci si è bloccato sulla roccia di punta e mi ha fatto da perno quindi la gamba destra si è bloccata indietro io mi sono trovato a ruotare su me stesso a quel punto stavo guardando verso la cima della montagna e la mia schiena guardava la discesa gli sci non si sono staccati io ho fatto perno intorno al ginocchio sinistro e lì è saltato tutto da lì sono volato di schiena in giù ho fatto due o tre capovolte non ho capito assolutamente niente e mi sono fermato lì su un mucchio di neve così di faccia quindi tutto sommato poteva andare molto peggio perché ero sopra il canale sotto di me iniziava il canale quello vero e proprio che è lungo circa 4-500 metri e non so se mi sarei fermato se fossi caduto un po' più tardi o un po' più in alto dove era più ripido quindi sono caduto nel punto paradossalmente meno ripido della discesa quindi bene e mi sono fermato su un mucchio di neve lì di fianco e anche lì bene fossi caduto 100 metri dopo o 100 metri prima non sarebbe stata la stessa cosa probabilmente comunque perché sono caduto? al di là della roccia che quello uno secondo me lo deve mettere in conto può capitare non sempre le vedi i sassi quindi dove è stato l'errore? probabilmente nella foga di scendere un po' per l'ansia di quella cornice lì appesa sopra di noi che per quanto poco è sempre un minimo rischio in più la voglia di fare questo canale che erano un po' di anni che lo guardavo che volevo farlo ma non c'erano mai le condizioni aveva fatto un po' di neve non era in condizioni perfette ma erano buone e e in più probabilmente in quel punto lì io non ero totalmente concentrato perché altrimenti avrei visto il cambio di neve avrei gestito in modo un po' diverso la situazione ne sono convinto di questa cosa io ero già con la mente al canale sotto non stavo pensando non stavo troppo attento in quel momento lì e perché è un punto più facile degli altri di fatto e questo ho pagato ho capito un po' di cose comunque un altro errore che ho fatto probabilmente è la regolazione degli attacchi perché facendo salti settimana prima ho fatto giornata freeride l'ultimo video se non l'avete visto andate a guardarvelo perché gran neve gran sciata l'ultima della stagione bella perché questa mi sono fatto male dopo 100 metri che ho iniziato la discesa su 1500 quindi praticamente non la considero torniamo a noi non mi ricordo più dove è arrivato sì la caduta perché ah sì gli attacchi gli attacchi io li ho chiusi per reggere gli impatti dai salti quindi non si è aperto niente forse se fossero stati regolati un po' più leggeri si sarebbero aperti io li ho chiusi a 12 din quindi circa 120 kg di pressione di sgancio forse sarebbe stato meglio 100 non lo so però c'è il lato negativo che se è più bassa poi c'è il rischio che si stacchino quando non devono quindi è tutto un un trovare il giusto compromesso comunque per darvi un'idea io peso sui 70 75 non lo so una vita che non mi peso ma più o meno all'intorno forse sui 100 110 sarebbe stato più corretto vabbè quando facevo gare chiudevo a 140 quindi ho detto 120 sarà giusto non lo so non avrò mai la controprova comunque dopo il volo mi sono fermato lì uno è sempre dopo un volo così hai l'adrenalina sparata a mille io la prima roba che ho detto ai miei compagni di uscita è stata tutto bene a posto sto bene andiamo avevo sangue che usciva dal naso lente della maschera spaccata per il colpo in faccia ginocchio sentivo che insomma non era proprio il massimo però pensavo ma sì è solo una botta domani sto bene e tra tre giorni sono di nuovo sugli sci però non sarà così dopo bene ha successo avevo un po' di male soprattutto a una spalla e al naso pensavo botte niente di più quindi mi sono preso due antidolorifici che avevo in zaino mi raccomando ecco questo io l'avevo anche prima però è stata una conferma un kit di pronto soccorso con dentro qualche cerotto qualche garza qualche benda antidolorifici quindi che può essere occhio piuttosto che tachipirine aspirine quello che vabbè un antidolorifico generico qualche pastiglia per il mal di gola io mi sono mi è servita durante gli anni e un telo termico di quelli le metallina lì quella argentata da un lato e dorata dall'altro sempre averle in zaino sempre dopo alla metallina ci torniamo dopo comunque queste robe qui sempre portatelevi via portatevele via ecco non so più parlare che vi possono veramente salvare la vita in questo caso non era così estrema la situazione però forse è stato peggio sì quindi da lì ho detto mi sono un attimo ripreso ho ricomposto ho sistemato gli occhiali ho sistemato tutto ho detto ma sì dai scendiamo faccio una curva e sento che il ginocchio è praticamente indipendente dalla tibia ho detto no fermi tutti qui c'è un problema mi era già capitato in precedenza perché mi ero fatto male correndo a una caviglia non così tanto però avevo già lesionato legamenti quindi ho capito subito che il problema lì erano i legamenti e ho capito che sarebbe stata lunga e lì è il primo colpo che ti rendi conto che l'hai fatta grossa perché vabbè sei in piedi stai scendendo ma là dentro nel tuo ginocchio c'è qualcosa che non va c'è qualcosa di rotto quindi eravamo in un punto un po' bruttino perché eravamo su in alto quasi in forcella e ancora quota 2800 circa vicino alla parete con sotto di noi un canalone quindi lì era esclusa la possibilità di chiamare soccorsi anche perché non prendeva il telefono in più io all'inizio non avevo nessuna intenzione di chiamare soccorsi ho detto no scendo riesco a sciare scendo con le mie gambe quando sono giù ci pensiamo sceso il canale quindi derapando su uno sci ho provato anche a fare due curve ma non andava quindi mi sono messo su uno sci solo l'altro ginocchio a monte sollevato e l'ho derapato tutto il canale perché devo devo usare la gamba destra di va a valle io vado giù con calma intanto primo e ultimo canale che derapo perché gli altri vanno sciati assolutamente speravo di non scendere così in basso a derappare canali scherzo no dai la neve era compatta dentro nel canale e dopo sceso praticamente tutto mancava gli ultimi 50 metri e lì ho capito che sarebbe stata una rogna perché non vedevo l'uscita vedevo che diventava molto più ripido e poi sotto vedevo che le tracce di quelli che ci avevano preceduto continuavano quindi ho deciso di provare a togliermi gli sci e infatti sotto c'era un saltino di rocce una roba molto facile se fossi stato bene era un metro effettivamente cioè la roccia era di un metro è che per arrivarci era molto ripida la neve e sotto invece spianava dopo e usciva sul pianoro davanti il nevato quindi io dovevo passare via questi 10 metri 15 massimo brutti tecnici in cui avrei dovuto disarrampicare un metro un metro e mezzo proprio usando roccia e prima i 5-6 metri prima invece avrei dovuto scendere con la piccozza e ramponi quindi mi sono fatto aiutare dai compagni di uscita a mettere i ramponi perché non riuscivo a piegare la gamba per arrivare al piede sinistro il destro sì però il sinistro no in più avevo una spalla che iniziava a fare molto più male e non riuscivo più a piantare la piccozza quindi la appoggiavo lì gli davo giù dei pugni con l'altra mano e poi mi tenevo col braccio teso ho detto tanto è tutto attaccato è teso la mano resta chiusa se scivolo rimango lì appeso quindi mi sono sceso in questo modo orribile inguardabile da fuori immagino proprio cercando di strisciare in giù soffrendo a ogni passo perché dovevo usare la gamba infortunata per stare su quindi battere con la punta del piede per fare per piantare il rampone per fortuna la neve era buona le condizioni erano buone e il passaggio di roccia aveva due belli appigli dove ho potuto appendermi uno con la spalla destra che mi faceva male a braccio teso l'altro invece sinistra perfettamente funzionante e sono riuscito a passare dopo da lì in giù mi sono seduto sulla neve e mi sono lasciato scivolare perché non c'erano più rischi sotto di caduta quindi potevo farlo sopra non avrei mai potuto farlo perché avrei preso troppa velocità con il rischio di salti di roccia quindi inconsiderabile e così ho sceso un'altra i 100 metri più o meno fino ad arrivare dove c'era campo e dove c'era spazio e allora lì valutando un po' la situazione dopo un po' abbiamo deciso che era meglio chiamare il soccorso abbiamo fatto la chiamata e poi ci siamo messi lì a aspettare e qui entra in gioco la metallina il telo telo isotermico dopo dieci minuti che ero lì all'ombra a 2300 più o meno 2400 non so dovevi controllare la quota esatta ma sopra il rifugio Berti per chi conosce la zona lì mi sono fermato mi sono seduto nella neve perché non c'era altro ho provato a mettermi lo zaino sotto il sedere per isolarmi un po' dalla neve ma nel pezzetto che ho fatto scivolando praticamente scivolavo sulla schiena seduto e con la piccozza frenavo di lato però in quel pezzo lì le braghe si sono completamente bagnate perché la neve è sciolta che col calore del corpo dopo un po' è entrata non sono totalmente impermeabili quindi stando proprio a contatto dopo un po' si bagnano in più avevo guanti bagnati dopo la caduta perché mi era entrata neve ovunque quindi giacca bagnata già il guscio fuori no ma il piumino sotto si era un po' bagnato perché era entrata neve anche lì e quindi lì è iniziata l'attesa i soccorsi sono rapidi sono stati perfettamente in linea però comunque non sono così veloci cioè uno fa tempo veramente a patire il freddo dopo dieci minuti io iniziavo a avere veramente freddo alle mani e alle gambe sopra no perché sopra ero vestito tanto avevo messo su anche un'altra giacca che avevo in zaino per emergenza allora lì mi è venuta l'illuminazione no ma io sono dieci anni che ho in zaino questo telo termico mai usato mai tirato fuori dalla confezione se non lo uso oggi quando lo uso mi sono avvolto intorno è cambiato tutto si stava benissimo stavo da dio a parte un po' le mani che dovevo continuare a muoverle se no quelle un pochettino si sarebbero rattreddate comunque quindi ero continuamente lì a muovere le mani scaldarmi e basta ho aspettato dopo sono arrivati mi hanno fatto un po' di controlli mi hanno sparato dentro in vena un antidolorifico che mi ha mandato in balla non capivo più niente girava tutto ero le montagne che si muovevano e poi mi hanno imbarrellato mi hanno tirato su in verricellato e poi mi hanno caricato nel primo punto comodo e lì trasportato a Belluno lì mi hanno fatto un po' di analisi mi hanno detto guarda fratture non ce ne sono ginocchio e spalla subito mi hanno detto ma si vedrai non è niente di che secondo noi è solo un po' stirato magari qualcosa invece dopo un po' mi hanno fatto un attack alla testa perché in certi momenti mi girava un po' la testa e avevo preso una botta proprio qua in faccia e hanno trovato niente di grave ma una frattura qui alla spina del naso è per quello che mi faceva male prima cosa frattura al naso tranquilla faccia niente di preoccupante tutto allineato mi hanno detto non si fa niente tra un po' stai bene ok a posto dopo un po' di giorni continuavo a farmi male sia spalla che ginocchio e quindi anzi mi faceva più male non riuscivo a muovere la gamba praticamente e allora sono tornato in pronto soccorso perché non non andava bene e lì mi hanno detto la prima cosa che insomma mi ha fatto capire che era più grave del previsto mi hanno detto secondo noi hai il crociato rotto e da lì sono sei otto mesi di riabilitazione per tornare a fare attività fisica normale post operatoria perché serve un'operazione e vabbè lì ho capito che sarebbe stata molto lunga che la stagione era finita totalmente finita e che sarò in grado forse di rimettere gli sci all'inizio della prossima se non un po' più avanti dipende da quando fa neve cioè non so ancora se per novembre là intorno potrò sciare vedremo sarò un po' al limite comunque risultato finale dopo le varie analisi crociato anteriore totalmente rotto tendine collaterale del ginocchio lesionato edemi ossei diffusi non so più cosa fossero ho letto praticamente la tibia e il femore cioè le due teste si sono scontrate girando non ho ben capito come hanno fatto ma probabilmente hanno fatto un'frizione quindi si ho liquido dentro le ossa che dovrà riassorbirsi lì non si fa niente si aspetta e basta qualche mese e dovrebbe essere a posto in più all'ultima risonanza dopo circa un mese che camminavo già mi hanno detto ah guarda che hai una linea di frattura sulla tibia ma ormai vabbè ormai se non mi ricammini vai si è sistemata è boh si una linea è tipo una sfesatura da quello che ho capito sul piatto tibiale che deve essere quella parte superiore comunque vabbè quella si sistema da sola non devo far niente l'arogna vera è il crociato che è rotto e devo operarmi non so ancora esattamente quando a breve mi diranno quindi a oggi è passato circa un mese e mezzo da quando mi sono fatto male cammino vado in bici nuoto faccio esercizi a casa elastici ho già iniziato a fare squat mi alleno al trave a fare per arrampicata almeno migliorerò qualcosa lì spero e vabbè l'unica è tempo pazienza e aspettare adesso vi faccio vedere perché ho capito che ho colpito una roccia e partiamo dallo sci io cadendo non ho capito cosa sia successo esattamente perché è stato una confusione unica però dopo che vedo che lo sci in punta è in parte delaminato la lamina non so se si vede ma fa come un'onda proprio qui deve aver preso una gran botta per piegare la lamina in quel modo in più qui c'è un crapere cioè si vede il dentro ok è riparabile perché so che ste robe qui sono riparabili però è una gran botta e un altro qua buco che arriva proprio dentro ha passato via totalmente la soletta arrivato all'interno dello sci qualche altro segno nuovo c'è ma niente di violento questo è quello veramente forte d'impatto e è quello che probabilmente ha innescato la caduta o al 99% comunque capita non è colpa del sasso non è colpa dello sci ho sbagliato io capita non deve capitare non dovrebbe almeno vabbè mi ha insegnato che sempre attenti per carità lo sapevo già ma una cosa è saperlo una cosa poi metterlo in pratica perché uno magari pensa ad altro un po' teso un po' sta pensando a come gestire la sciata dopo come fare come la neve un sacco ci sono un sacco di cose stabilità cose particolari in più continuo a dire un canale se uno vuole sciarlo in maniera un po' aggressiva va salito uno deve sapere come non può buttarsi giù a caso noi in questo caso avevamo fatto il giro da dietro che per carità risparmi tante energie e va benissimo probabilmente avrei dovuto partire con una marcia in meno nella velocità vabbè è andata così poteva andare peggio ma poteva anche andare meglio dai allora ci vediamo al prossimo video un po'